Con lo terrorista Remo, è due anni che retrocede Due anni del Serie B del fantacalcio della Lega del Ciaro Incredibile, una delusione, una delusione Oh Remy, sei retrocesso, grande Remy, vale anche salvarsi Nero Alessandro, cosa ne pensa della retrocessione di Remy? Penso che dopo due anni consecutivi sia una cosa imbarazzante quasi Questi francesi non hanno nulla che spartire con il calcio, penso E' vero che devo fare il fantacalcio alla Lega del Ciaro nel posto di Remo? Oh ragazzi, a proposito, ma è vero che retrocesso Remo anche quest'anno è la Lega del Ciaro nel fantacalcio? Ma veramente? Anche quest'anno? Vabbè basta, vero dai Fa la Lega del fantabasket Perché qui lì non si può andare più avanti Tutta la spiaggia ne pare questa cosa Boh Ciao 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 Ciao